E c'è invece un Sud che non vuole mollare, che insegue il successo. Siamo al secondo appuntamento con Incoming Pest, ma con gli incontri tra produttori salaritari e importatori tedeschi. Stefania Lettini è manager a Düsseldorf di un'azienda specializzata nella importazione e commercio di prodotti italiani speciali e figlia di padre italiano e madre tedesca. Stefania, cosa ha scoperto di nuovo e di interessante nel corso degli incontri e delle visite che avete fatto in provincia di Salerno? Prima di tutto ringraziamo che possiamo essere qui in questa bellissima zona che ho trovato molte sorprese bellissime. I nostri clienti sono speciali, chiedono da noi prodotti artigianali tipici per le regioni, prodotti che non si trovano facilmente in Germania già importati. Qui ho incontrato alcune aziende molto interessanti, per esempio la zona della mozzarella, la mozzarella di bufala, affumicata e lavorata in maniere diverse che si trovano da noi. Poi chiaramente ho degustato alcuni vini molto interessanti, morbidi che non me ne immaginavo così morbidi come una falanghina del territorio qui che penso che potrebbe incontrare un bel interesse al pubblico e poi i pomodorini del piennolo che sicuramente da noi non si trovano quasi per niente. Questa sarà forse una piccola voglia che ho sviluppato adesso di promuoverla un po', perché anche poi si fanno dei sughi che sanno da pomodoro veramente che da noi non si trova. Con forse un bellissimo olio di questi colli, uno ha un piatto favoloso artigianale perché la cucina italiana è prodotti buoni della regione e poi si mangia bene la dieta.